Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della Rassegna Stampa di mercoledì 12 agosto. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi che in prima pagina con grande evidenza riporta la notizia, la tragedia capitata ieri a Santa Giustina. Muore schiacciato da un masso. Ragazzo di 15 anni stava per tuffarsi dalla scogliera nel piave ma è stato tradito. Shock a Santa Giustina. La notizia viene anche corredata da una foto del luogo in cui è capitata la tragedia in località Campo a Santa Giustina non distante dalla cartiera Reno dei Medici e anche dall'immagine del ragazzo. Come è facile immaginare anche sulla prima pagina del gazzettino di Belluno sulla quale siamo ora passati e questa è la notizia che campeggia. Muore a 15 anni schiacciato dai massi. Tragedia sulla riva del piave a Santa Giustina. Alessio Bortoluzzi è scivolato mentre stava giocando con tre amici. Spiega il gazzettino di Belluno. Il masso che traballa si sposta sotto il peso di Alessio. Lui perde l'equilibrio. Cade travolto da quell'enorme pietra che lui stesso stava calpestando in riva al piave. Il masso va in prigione e imprigiona in una stretta mortale. Non riesce a muoversi. Gli amici chiamano aiuto. I pompieri arrivano dopo minuti che sembrano interminabili. Spostano il sasso. Lo liberano. Poi il volo disperato in elicottero fino all'ospedale San Martino dove però il cuore di Alessio smette di battere. Doveva essere un pomeriggio di divertimento. Quello di quello che Alessio Bortoluzzi di Santa Giustina che avrebbe compiuto 16 anni il 20 agosto aveva deciso di trascorrere con alcuni amici in riva al fiume in località Campo. Invece una tragica fatalità che nessuno poteva prevedere in un luogo che durante le giornate estive è frequentatissimo da giovani e famiglia che cercano riparo dalla calura estiva. Questa la notizia tragica che campeggia oggi sulle prime pagine dei giornali locali. Rimaniamo sul gazzettino. Un'altra notizia sempre messa con evidenza in prima pagina positiva per la seconda volta dopo quattro tamponi negativi. In casa di riposo a Pedavena torna l'incubo Covid-19. Nessuno può dirsi tranquillo. Nella casa di riposo a Padre Colbe di Pedavena torna l'ombra del Covid-19. Un ospite della struttura infatti spiega il gazzettino, positiva nei mesi clou della pandemia e negativizzata dopo alcune settimane, a distanza di oltre tre mesi torna nuovamente positiva. Una situazione inaspettata che ha costretto il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss ad agire ricostruendo i contatti dell'ospite e ad effettuare il giro di tamponi che dovrebbe concludersi oggi. La direzione della casa di riposo a Padre Colbe, appena presa la notizia, ha subito attivato tutte le precauzioni necessarie, tra cui il blocco delle visite. La direzione dell'Ulss non fa drammi. «Casi di ripositivizzazione non sono rari, spiega. Potrebbe trattarsi di una minima parte di coronavirus che era passato inosservato ai precedenti controlli». E tra i positivi anche un contatto del giovane rientrato da Malta con il virus. Ieri infatti in provincia di Belluno sono stati due i nuovi positivi. E ancora dalla prima pagina del Gazzettino, bomba d'acqua allagate Belluno, Feltre e Pedavena nella serata di ieri. La notizia viene approfondita anche a pagina 2 e 3 del giornale. «Fiumi di fango e detriti, città e passi sotto acqua». Ieri dopo le 20 i vigili del fuoco costretti a intervenire a ripetizione a Belluno e nei comuni vicini. La notte scorsa chiusi Jau e Valparola. E poi, sempre per quanto riguarda la viabilità, «Il grande giorno riapre la strada che collega Lamosano a Schiucaz, in Alpago. Dopo oltre un anno, se il meteo lo consentirà, sarà di nuovo transitabile la provinciale della frazione famosa per la frana». «Messa in sicurezza dell'area». «La messa in sicurezza dell'area è passata attraverso l'esplosione della massa di terra, che era pericolante e che minacciava il paese». Andiamo ancora avanti, sempre sul gazzettino di Belluno. «Bonus al sindaco, niente automatismi. La vice di Belluno è commercialista, ma non vuol giudicare la scelta del primo cittadino dell'Ivinellongo. Tutti casi diversi. Si tratta della questione di chi, tra gli amministratori pubblici, ha chiesto il bonus di 600 euro che è stato previsto dal governo per aiutare le partite IVA e chi si trovava in difficoltà. «La difesa con indennità di poco più di 1000 euro al mese e l'albergo chiuso non ho potuto fare, altrimenti». Questa è la versione appunto del sindaco dell'Ivinellongo che ha chiesto il bonus. «Il futuro è in Nevegal, i primi due parti dopo 25 anni. Fiocchi rosa sul colle, Margherita ha visto la luce a inizio anno e tre giorni fa è arrivata la piccola Isabelle. Sei container navali per liberare nuovi spazi per le aule, destinati agli alberghieri di Falcade e Longarone e all'agrario di Feltre. Segno dell'impegno che la provincia di Belluno sta mettendo in questo periodo per predisporre al meglio gli spazi delle scuole in vista della ripresa dell'anno scolastico». Piano antidegrado, lo Stato rimborsa 2,6 milioni di euro a Belluno per gli interventi di riqualificazione urbana nell'ambito del bando periferie. C'è poi in apertura della pagina di Feltre e del Feltrino l'approfondimento della vicenda tragica e triste del ragazzo ucciso da un masso in riva al Piave a Santa Giustina. E poi teatro, giochi, equitazione. Decolla Feltre estate 2020. Utilizzate le risorse che il governo ha stanziato con il decreto rilancio per la città. In tutto sono 37 mila euro. E poi l'approfondimento del Covid che torna a farsi sentire alla casa colbe di Pedavena. Voi là? Edizione 22. Torna il festival degli artisti di strada a Feltre. Tutto pronto per la tradizionale kermes che richiama sempre una folla di visitatori. Scuola risolto il rebus degli spazi nel comune di Borgo Valbelluna. A Mel convivenza tra elementari e media negli edifici delle primarie Dante Alighieri e Cima di Villa di Villa. Tricchiana continuerà tra prefabbricati e la ex pascoli mentre a Lentiai sarà utilizzato il centro polifunzionale. E da Ponte nelle Alpi marciapiede con guida per ciechi. I non vedenti approvano l'intervento. Predate quattro pecore alla Fullin in comune di Chiesa del Pago. In totale sono 104. Ed eccoci in comune di Falcade. Resta stazionario il bimbo precipitato dalla finestra di una casa di caviola. Bimbo che era di Conegliano in vacanza con la famiglia. Prognosi precauzionalmente riservata per il piccolo di tre anni volato per circa 5 metri. I carabinieri hanno sentito i genitori e i vicini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Da Sedico. Strade ed erbacce. Il diserbo non basta. Serve più impegno. La manutenzione del territorio tiene acceso il consiglio comunale. Alessandro Buzzatti della minoranza. Va implementato lo spazzamento e in questo senso abbiamo avuto un'apertura. Gli ultimi papi europei. Una mostra loro dedicata e ai loro reciproci rapporti e ai rapporti tra i loro paesi di provenienza al Museo Albino Luciani di Canale d'Agordo. Toscani molla la cooperativa Cadore e sfida la offer. Siamo a Valle di Cadore. Ex sindaco e leghista mette scompiglio proprio nel carroccio. La sua candidatura non è stata ancora ufficializzata ma il passaggio con la Buzzo conferma le voci. La Buzzo, Alessandro Buzzo è già sindaco di Santo Stefano di Cadore che è diventata presidente al posto di Toscani della cooperativa Cadore. Un positivo tra i contatti del turista contagiato a Cortina. Una ragazza che era già in isolamento. Una decina di tamponi eseguiti dall'Ulss trovando questa positività. Il dottor Cinquetti, responsabile del dipartimento di prevenzione dell'Ulss. Questi giovani sono asintomatici. Avevano viaggiato assieme rientrati dall'isola di Malta. Ospitale ora ha un nuovo ostello. Opportunità per farci conoscere. Struttura sistemata con la collaborazione dei fondi per i comuni di confini. Il Rotary connette il mondo e il premio a un giovane di male. Il club di Venezia sceglie il manifesto del giovane comeliano. E per lo sport. Cava e Limana. Ferie finite lunedì. Accendono i motori. Ultimi giorni di vacanza per i giocatori agli ordini di Parteri e Speranza. Raduno subito dopo Ferragosto. Per i giallorossi di Cavarzano. Appuntamento a Grondi Sospirolo. Sabato 22. La prima amichevole contro il Cartigliano. E da Sospirolo. Settimana senza tv. Entra nel vivo l'iniziativa partita ieri per creare un'alternativa al monopolio del piccolo schermo. Due appuntamenti culturali al giorno fino a lunedì 17 agosto. E dal gazzettino di Belluno torniamo al Corriere delle Alpi alla pagina alla parte del giornale che viene riservata alla provincia di Belluno e che inizia con una notizia dalla città capoluogo. L'ex banca d'Italia riapre in ottobre con negozi di abbigliamento e una banca. A inizio 2021 sarà concluso il cantiere sopra il Park Caffi. Salta l'ipotesi del supermercato. In arrivo una attività di ristorazione. Si avviano a conclusione i progetti portati avanti da Roberto Chemello e dai suoi collaboratori. Queste operazioni credo rappresentino una opportunità di rilancio della città, sottolinea l'imprenditore. Iniziati i lavori a Lambioi Beach. Siamo ancora a Belluno. A ferroagosto solo. L'area picnic. Niente chiosco ambulante. L'accesso all'area che è un cantiere non agevole. Campo da beach volley, barbecue e parco giochi pronti a metà settembre. Si tratta dell'area che era stata devastata dall'acqua nei mesi scorsi e che ora un poco alla volta viene sistemata di nuovo. E ancora da Belluno. Area Bardin in degrado. È urgente una bonifica presa di posizione del consigliere comunale di Belluno, Rufus Bristot. Eccoci ancora sulle pagine del Corriere delle Alpi per dare conto di altre notizie che riguardano la provincia di Belluno. Schianti a terra. Parte la raccolta dei dati dei comuni per la stima precisa. Siamo sempre nell'ambito del post-vaia. Incontro tra sindaci e il soggetto attuatore regionale in vista della richiesta dei finanziamenti per il 2021. Improbabile riuscire a vendere per Bostrico e Silvopastorali due piani specifici. Ronce il progetto di Belluno Alpina, consorzio forestale, alle ex scuole. Questa la loro proposta ritenendo questa associazione Belluno Alpina che la cura dei boschi dei comuni di Belluno, Pontanale Alpi, Limana richieda proprio l'organizzazione, la costituzione di un consorzio forestale che potrebbe avere la sua sede e in modo anche baricentrico alle ex scuole della frazione bellunese delle Ronce. Sfiniti senza kit o scarpe adeguate, in montagna non si improvvisa. Il soccorso alpina traccia un decalogo dei comportamenti per escursionisti. Tanti non hanno preparazione e neppure dotazione. Con mountain bike e biciclette elettriche bisogna stare attenti soprattutto quando si scende i sentieri. E ci sono queste le raccomandazioni, appunto proposte dal soccorso alpino, visti anche i numerosi incidenti per i quali sono costretti a intervenire. Oltre 4 soccorsi al giorno e 135 missioni con l'elicottero. Da giugno al 10 agosto i volontari impegnati in 3.500 ore di lavoro. Molti sono i turisti senza polizze assicurative. Ancora dal comune di Belluno. Comune rimborsato per i cantieri di rigenerazione. Arrivano a 2,5 milioni. Palazzo Rosso ha dovuto anticipare i soldi alle imprese. Con la somma ricevuta potrà continuare a liquidare le ditte. A Damiano, consigliere comunale di Belluno sul Nevegal. Il privato investe, ma il pubblico latita. Turista di 11 anni, morso da una vipera nei pressi di un rifugio nel territorio di Cortina d'Ampezzo. Il piccolo è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Belluno. Covid, un altro positivo, al ritorno da Malta. Il caso è collegato a quella del giovane ampezzano. Infetta anche una donna ospite, la casa Colbe, a Pedavena. Furto in pieno giorno. Spariscono gioielli dalla casa di un anziano in via Feltre a Belluno. Andiamo ancora avanti. Sempre sul Corriere delle Alpi. Eccoci alla pagina di Feltre che nella sua apertura è dedicata alla tragedia che ha coinvolto il ragazzo di Santa Giustina, il quindicenne, schiacciato da un masso in riva al Piave. Frequentava l'Enep di Longarone e amava mountain bike e calcio, spiega il Corriere delle Alpi. La comunità di Santa Giustina si chiude nel dolore ed è vicina ai genitori Adriano e Michela e alle sorelle di Alessio. Una zona del fiume frequentata da generazioni di giovani del luogo. Lo sgomento di un intero paese, una beffa, un destino crudele. Quel posto viene chiamato il Molo Rosso alla confluenza tra il Salmenega e il Piave. Abbiamo trascorso tanti pomeriggi di vacanza lì. Molti decenni fa ci fu un'altra tragedia su quella scogliera. Morì un ragazzo di Cesio Maggiore. Queste alcune riflessioni, alcuni ricordi legati alla morte del giovane quindicenne di Santa Giustina. Ed eccoci a Lamont. Resenterra lascia il suo posto in giunta. Motivi personali. Nessuno screzio con l'amministrazione. Continuerò a dare il mio apporto in consiglio comunale. Sindaco e maggioranza. La ricerca del sostituto. La scelta tra un esterno o una persona della lista. Santa Giustina rassegna di tre giorni i sapori dello street food conquistano il pubblico. Niente festa per il patrono, solo una messa per San Fermo. Questo il programma del Enalsport Villaga. Schirata, una scommessa per preservare Valpiana in comune di Limana. Schirata è il nome di un'azienda agricola. Cento vini, soprattutto capre, da cui la famiglia de Toffol ricava dei formaggi molto apprezzati e premiati. Ma ci sono anche galline, cavalli e arnie. Il Corriere delle Alpi presenta un ampio servizio per documentare l'attività di questa azienda agricola. Sedico, ecocentro, i troppi ritardi fanno scattare le polemiche. Il vice sindaco Sacchette con Valpe stiamo cercando di migliorare la situazione ma spiace che i cittadini preferiscono scrivere sui social anziché in comune. Borgo Valbelluna botta risposta fra sindaco e minoranza sui soldi per le scuole. 65 soci al raduno del Vespa Club Sedico. E c'è anche una bella foto che testimonia la numerosa partecipazione. Ospitale di Cadore, già aperto il nuovo stello, sindaco e famiglia, primi ospiti. Attilio Favaro e Patricia Gregorio sono già gestori di un bed and breakfast in paese. Abbiamo partecipato al bando e ora siamo pronti a questa sfida non facile. Riva Monte, antenna wind 3, da spostare uno spiraglio per la gente. Andiamo ancora avanti. Eccoci sulla pagina di Cortina. Mountain Wilderness, seconda denuncia a boschi devastati per costruire le strade a supporto dei lavori per i mondiali e le olimpiadi. Gli ambientalisti mettono sotto accusa la cementificazione dei luoghi a Rumerlo. Ora ampliano anche la labirinti. Muraglioni imposti per la viabilità ma anche movimenti terra notevoli. Cortina, serata di bollicine precampionati con opzione acquisto biglietti. San Vito di Cadore, le musiche di Galligioni per i 125 anni del San Marco. Limina a Longo, fiumi d'acqua sulle strade, allerta meteo fino a domani. Chiuse al traffico ma già riaperte le provinciali dei Passigiao e Valparola, previsti forti temporali con possibilità di colate e anche movimenti franosi. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.